In questo video andremo a vedere come sono riuscito ad ottenere questa foto partendo da un'immagine piatta, scattata con iPhone, ma con alcune accortezze. Come sfruttare il vostro iPhone per realizzare degli scatti perfetti in condizioni pessime di luce e in assenza soprattutto di macchine fotografiche con sensori più grandi. Andiamo a vedere subito. Prendiamo il nostro iPhone, ci arricchiamo in impostazioni, scurriamo verso il basso affinché non troviamo la dicitura fotocamera. Ci entriamo. Qui abbiamo una serie di funzionalità e di controlli che possiamo dare alla nostra fotocamera. A noi interessa il primo, quindi la scritta formati. Entriamo anche qui e sulla seconda funzione, quindi sull'acquisizione foto, attiviamo Apple Pro Raw. Come ci spiegherà la nostra dicitura, avremo un file di circa 25 MB, quindi molto molto grande, con un controllo del colore a 12 bit. Noi lo attiviamo, ritorniamo indietro e ci portiamo sulla nostra fotocamera. Una volta aperta la fotocamera, in alto a destra troveremo la dicitura RAW. Dobbiamo spuntarla, perderemo di conseguenza il live, quindi con RAW disattivato è possibile ottenere una live foto, con RAW attivato non è possibile ottenere una live foto. Ci posizioniamo, come possiamo vedere siamo in condizioni di luce pessime perché stanno elicando, siamo anche in condizioni di avere un iPhone e non una Sony, quindi la peggiore situazione possibile, unita a luce e fotocamera. Attiviamo il RAW e andiamo a comporre la nostra fotografia. Una volta scattata l'immagine la troveremo semplicemente all'interno della galleria di iPhone. Dal pannello informazioni noteremo che il file è di tipo RAW, ha il peso di ben 31,5 MB, quindi siamo oltre il peso di una normale fotografia scattata da iPhone. All'interno di questi MB sono raccolte tutti i dati necessari a programmi di sviluppo e fotoritocco, come Lightroom e Photoshop, un'elaborazione completa di quella che è l'immagine. Ho velocizzato l'intero processo di post-produzione perché richiederebbe del tempo e delle spiegazioni. E' importante quindi capire l'effettivo vantaggio che ne deriva dall'utilizzo di questo tipo di file. I file RAW raccolgono tutti i dati durante la fase di scatto. Questi dati noi li andremo ad utilizzare durante la post-produzione, quindi lavoreremo su informazioni reali. Il JPEG, pesando molto meno, non raccoglie tutte le informazioni, ma ne elimina gran parte, quindi non andremo più a lavorare su informazioni reali, ma su informazioni false, che i software vanno a creare per completare l'immagine. Quindi andremo semplicemente a creare artefatti e a rovinare ancora di più quello che è la fotografia. Spero che questo video e questo piccolo trucchetto vi sia stato utile. Buone foto a tutti!